Disco Radio ti porta al cinema Ilenia Pastorelli, Marco Giallini, Edoardo Leo e il resto della banda tornano in sala con il terzo capitolo di C'era una volta il crimine Questa volta i nostri viaggeranno indietro nel tempo fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi Tanto va perdita sta guerra Perdete pure la finale dell'82 Ma ricordate sto nome Paolo Russ Due donne sull'orlo di una rottura in un ospedale e accumulano ulteriore stress nella notte di una grande manifestazione per via del personale sopraffalto e dei manifestanti arrabbiati e feriti che tentano di assediare l'edificio È Parigi, tutto in una notte Troveremo delle soluzioni Assumi un infermiere a domicilio e qualcuno ti farà le pulizie Ah d'accordo, come se fosse mia nonna Il male non esiste racconta quattro storie collegate tra loro nell'Iran contemporaneo che rappresentano quattro variazioni su temi cruciali come forza morale, spirito di sacrificio e disobbedienza civile nei confronti di leggi imposte da un regime dispotico A che serve dire la verità se distrugge la vita di una persona? Le vecchie glorie del team Jackass tornano per un altro round di scherzi comici esilaranti, ferocemente assurdi e spesso pericolosi celebrano la gioia di essere di nuovo insieme con l'aiuto di un nuovo eccitante cast è Jackass Forever Hai ancora i tuoi denti da un milione di dollari però Disparato Disparato